Scusa, mi suona il telefono. Chissà chi è? Pronto? Chi parla? Sono il serial thriller. Indovina questa sigletta. No, scusa, guarda che ti ho riconosciuto. Tu sei James Stone. È vero, però te la faccio lo stesso. Sentila. Eh, troppo facile. Ehi, Tim. Giusto. Ehi, Tim. Il telefonino. Tim, il telefonino. E che cosa ho vinto? Hai già vinto. Grazie d'autoricarica 190. Ma non sai che hai ragione? Grazie d'autoricarica 190 ogni minuto passato con te al telefonino. Mi ricarica. Ah, che dolci parole. Guarda che non è un complimento. Tu mi ricarichi nel senso che con autoricarica 190 basta rispondere a tutte le chiamate provenienti da telefonini Tim o ricevere SMS da numeri Tim per guadagnare una nuova ricarica. Chiacchierare mi ricarica. Non è una favola. E poi, scusa, adesso che ci penso bene, anche tu hai tuo bel vantaggio, eh? Infatti, con autoricarica 190 tutte le chiamate verso i telefonini Tim e i telefoni Telecom Italia costano solo 190 lire al minuto, tutto il giorno, tutti i giorni. Autoricarica 190 di Tim e è unica. L'unica che ti fa ricaricare quando ricevi e che ti fa risparmiare quando chiami. Senti ti faccio io un quiz adesso, vediamo se riconosce questa sigla. No. No, eh. Sei proprio tante